Le ultime settimane di Puddle sono state simili a un numero di Novella 2000, amori infranti, nuove coppie e tanti rumors. Si è giocato tantissimo nell'ultimo mese e mezzo, con una pausa proprio nella settimana passata che ha fatto rifiattare tutti un attimino, sia i giocatori che chi segue il Puddle. Infatti alcuni top player hanno cominciato a dimostrare il loro dissenso per un quantitativo di tornei abbastanza insostenibile a cui non sono abituati. Javi Garrido, ad esempio, non ha parlato solo di aspetto fisico, ma anche di recupero mentale, viaggi, spostamenti, eccetera. Per tranquillizzare l'ambiente ci si è messa una sessione di Puddle Mercato che probabilmente non si era mai vista nell'era recente, con un vortice di movimenti, cambi di compagno e polemiche che andiamo ad analizzare in questo video. Ho voluto provare a fare ordine chi giocherà con chi, fino a quando e quali sono le prospettive. Mettere tutto in fila. Se vi piacerà questo riassunto condensato, mettete un like e iscrivetevi al canale come miglior modo di sostenere questo progetto e continuare a parlare di Puddle in modo ovviamente sempre più approfondito. Detto ciò, prendete carta e penna, il vostro cellulare, il tablet o qualsiasi cosa vogliate, segnate tutto e si parte! Tutto nasce dalla separazione di Pachito Navarro e Martín Di Nenno. Ne abbiamo parlato all'interno delle nostre video chat su Instagram con Emiliano di Padel Review. Tra l'altro seguitemi anche su Instagram a profilo qui sotto per essere sempre aggiornati sulle nostre live Warpadel Tour e Premier Padel che si sono spostate totalmente su Instagram e che ricaricherò qui ovviamente. Visto che le ultime sono andate molto molto bene con le vostre domande e i tantissimi vostri commenti. Della separazione illustra abbiamo parlato ed è quella che ha ingenerato tutto questo effetto domino. Tutto relativamente facile per Martín Di Nenno che giocherà da qui sino al termine della stagione con Cochigneto. L'ultimo torneo di Santander stravinto con Pachito Navarro è stato il capitolo finale della coppia e siccome dobbiamo un po' sbilanciarci su qualche valutazione e poiché ho cannato la grandissima su quelle riguardanti Stupo e Lima sono qui per servirvi con i pensieri che invecchieranno malissimo, è certo. Sembra difficile che due giocatori costruttori possano rendere al meglio. Di Nenno, forse il migliore in difesa del circuito, ha a sinistra un Cochigneto che non è il proverbiale bombardiere. Sembra un buon ripiego per finire la stagione e poi si cercherà altro. Ricordiamo però che la suggestione di Nenno Stupaciuk dell'anno prossimo sarebbe molto intrigante e personalmente la vedrei non bene di più. La diretta conseguenza di questo è Ianguas-Navarro che però ha un contratto a tempo determinato. Infatti i due giocheranno insieme fino a Buenos Aires e poi prenderanno strade diverse. Avventurarsi in valutazioni avrebbe davvero poco senso. Discorso analogo per la coppia Garrido-Lamperti. Altro accoppiamento a tempo determinato, anzi, determinatissimo. Più interessante invece è esplorare il nuovo, vero questa volta, compagno di Javi Garrido che sarà Federico Cingotto. Questo accoppiamento ha portato tonnellate di polemiche in quanto Lucas Campagnolo ha accusato l'ex compagno di non essere stato neanche onesto e trasparente dal comunicargli in faccia la vera situazione e come stessero le cose. Dapprima negando il contatto con Cingotto e poi ammettendolo solo una volta messo alle strette. A pa del club entrambi hanno dato la loro versione con un campagnolo davvero deluso e frustrato, davvero giù di morale e un Garrido che ha parlato di timing differenti rispetto a quelli citati da Campa tra contatto e poi reale ammissione e reale accordo con appunto Cingotto. Entrambe alla miglior stagione in carriera si trovano davanti a un bivio ma Javi guadagnerà un ottimo compagno come Cingotto creando una coppia a mio modo di vedere davvero interessante. È il giocatore adatto per giocare al fianco di un altro top difensore come Cingotto. Sono molto incuriosito dal futuro di questo duo. Per ora invece il ripiego di Campagnolo è John Sanz che però probabilmente sarà effettivamente un ripiego momentaneo in vista futura a meno di chimica perfetta tra i due. Il temporaneo Youngwas dal torneo di Buenos Aires in poi andrà a chiudere la stagione con Miguel Lamperdi in una coppia che francamente mi lascia più perplesso che persuaso vista la parabola discendente di Lamperdi e la crescita per ora solo in potenza di Mike Youngwas. Penso che non ci sia futuro per loro oltre la stagione corrente. Vedremo se avranno qualche sussuto d'orgoglio. Ora arriva il momento di una coppia che rischia di rivoluzionare ulteriormente il paddle moderno e la concezione di paddle che abbiamo avuto finora. Se Lebron a destra con Galanna ha riscritto alcune regole lo spostamento a destra di Pachito Navarro con Juan Teio a sinistra ridefinirebbe il concetto di potenza di fuoco. Per Pachito è un esperimento giocare a destra e lui stesso ha detto che sarebbe il primo a voler tornare a sinistra in caso di fallimento. Certo, se si dovesse trovare bene diventerebbe difficile limitare due bombardieri come loro. Finita? Sì, per questa stagione però. La bomba 2023 è già arrivata. Infatti Arturo Coelho e Agustin Tapia faranno coppia nel 2023 in un altro duo da stropicciarsi gli occhi. Probabilmente la coppia più devastante per talento e freschezza atletica dell'intero circuito. Agustin è come una bella ragazza, ha detto Sanio Gutierrez. Se vai in giro a far festa non puoi pensare che gli altri non la guardino. Ecco, Agustin è quella bella ragazza. È davvero un fenomeno. Sintomatiche le parole di Sanio che ora dovrà trovare un nuovo compagno per la nuova stagione. Così come succederà al maestro Fernando Belasteghin che però sembra indirizzato verso Alex Ruiz. Se questo momento è stato pieno di novità anche alla fine della stagione 22 in vista della 23 ci sarà un bel po' di movimento ma guardate fino in fondo il video perché vi farò un quiz alla fine. Nel campo femminile solo un avvicendamento c'è stato con Delfi Brea e Tamara Icardo che si sono separate così come hanno fatto Marta Marrero e Lucia Sainz. L'incrocio è diretto automatico con Brea che va a giocare con Marrero e Sainz che chiuderà la stagione con Icardo. Un peccato che Brea e Icardo non siano riuscite ad esprimersi con continuità. Secondo me è un'occasione persa per entrambe complice, va detto, anche una bella dose di sfortuna che le ha limitate ma sarebbero state veramente interessanti per provare a inserirsi tra le coppie top del panorama femminile. Questi sono tutti i movimenti che il World Padel Tour ha vissuto in questi giorni ma ora vi chiedo una cosa. Qual è la coppia che vi piace di più e qual è quella che vi convince di meno tra i cambiamenti che ci sono stati in queste settimane? Rispondetemi nei commenti e vediamo quale sarà la coppia vincitrice del pubblico di Simone Mazzola Padel & Tech e chi invece ne uscirà ridimensionato. Intanto vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento sempre qui per un prossimo video sul mio canale YouTube. Se avete domande mandatemele con un globo. Grazie a tutti.